Ciao, mi chiamo Ludovica, sono un'appassionata dai Fai e mi trovo ad Agostini Lab per sperimentare un poco questa accoppiata, il Balance PM7000N e le nuove Focal Area K2. Per quanto riguarda questi nuovi diffusori, la serie K2 affianca la serie 900 e consta di due modelli, un modello Bookshelf e un modello d'alimento come questo qui a fianco. Le nuovezioni sono tante, sia estetiche che di componenti. L'estetica lo vediamo subito, abbiamo questo dettaglio giallo degli altoparlanti, abbiamo un Twitter, un midrange, tre woofer, due basse reflex anteriori e un sottostante di diffusore. Nella parte superiore abbiamo del vetro di colore nero e una cosa molto interessante è questo grigio automotive, che adesso è molto in boga, nelle parti laterali del diffusore. A dar corrente a questi diffusori è un Marans PM7000N, un amplificatore multifunzione composto da ingressi sia digitali che analogici e non solo. Per quanto riguarda gli ingressi analogici possiamo collegare il nostro giradischi con il nostro elettore cibi, mentre per quanto riguarda quelle digitali ad esempio una fila. Inoltre è possibile collegare in airplay i nostri dispositivi mobili, scegliere la piattaforma streaming che più ci piace e riprodurre con semplicità le nostre playlist. Per testare questo impianto ho scelto un brano molto di impatto, che è No Time to Die di Billie Eilish. Sono rimasta piacevolmente sorpresa dall'ampiezza della scena sonora, sia in senso orizzontale che in profondità, e il triple woofer e il reflex anteriore danno proprio una sensazione di impatto sonoro sull'ascoltatore, ma anche un senso di coinvolgimento della scena sonora e coinvolgimento anche nell'esperienza di ascolto di questo brano molto particolare. Inoltre, una peculiarità di questo Marans è che può essere coinvolto in un sistema multi-room, grazie all'applicazione EOS, in quanto si può collegare ad altri dispositivi Marans-Denon tramite connessione Ethernet o connessione wireless, e si può andare a scegliere di riprodurre lo stesso brano o brani diversi nelle nostre diverse sale del nostro partito.